Ciao ragazzi, io sono Rocco Siffredi, io sono Omar Galanti, mi raccomando, domenica 19 giugno andate tutti a vedere la partita e fate beneficienza perché i bambini sono cose serie. Ragazzi, trattate i bambini, a noi ci piace quello che sapete benissimo, i bambini vanno rispettati e vedete la vedere. Ciao! Ciao!